Evidentemente qualcosa abbiamo sbagliato perché siamo partiti bene, poi abbiamo subito qualche ripartenza di troppo da parte della Ternana, però quando la posta in palio è alta è evidente che qualcosa, magari dal punto di vista soprattutto emotivo, abbiamo pagato. Abbiamo avuto la bravura e la fortuna di andare in vantaggio, soprattutto nel secondo tempo dovevamo gestirla meglio. Dopo l'1-1 abbiamo avuto anche due o tre occasioni per poter andare in vantaggio di nuovo, su una ripartenza nostra abbiamo preso il 2-1. Lì bisognava stare un po' a pensare di più alla partita, stare concentrati lì fino alla fine perché il gol lo può fare anche al novantesimo. Questo secondo me è quello che è mancato oggi, evidentemente come abbiamo fatto nell'arco del campionato, quando c'è da fare lo step successivo non siamo stati bravi a farlo, questo sicuramente ci manca. No, ma spesso, a parte che il paragone Perugia sono due realtà diverse, sono campionati diversi e quindi secondo me è un paragone diverso. Era un assist per te perché tu come allenatore le pressioni hai dimostrato lo scorso anno di saperle reggere, perché poi lo sai l'allenatore è l'immagine della squadra. Sì, sì, ma allora io penso che a volte il giovane, cioè il giovane che è spenserato e quindi gioca in modo tranquillo, sereno, non pensa a quante cose possono cambiare per una partita, un campionato, quante cose. Quindi magari in certe circostanze il giovane ti dà più di quello più esperto. E' che sono esseri umani, sono ragazzi che purtroppo quando senti le pressioni sono degli esseri umani e magari possono sbagliare. Possiamo sbagliare perché poi alla fine tutto giusto, però questi ragazzi sinceramente non mi sento di rimproverare nulla. Danno tutto, lottano su ogni pallone, commettiamo degli errori. Se andiamo ad analizzare e vedere anche gli altri risultati, oggi è evidente che le difficoltà ci sono per tutte. E quando soprattutto mancano le ultime partite dove la posta in palle è talmente alta, sono degli esseri umani, non siamo e non sono i ragazzi dei fuoriclasse, che anche il fuoriclasse in certe circostanze ti viene meno. Purtroppo quando c'è la pressione e l'intensità non è più come quella delle altre partite. C'è la pressione e la voglia perché vincere oggi lo sappiamo tutti cosa poteva significare vincere una partita come oggi. Purtroppo io la spiegazione che posso dare e che mi sento di dare ragazzi è che nello step, quello della maturità, abbiamo steccato anche oggi. Per quanto riguarda l'impegno, per quanto riguarda la voglia di lottare e soprattutto la delusione che ho visto da parte dei ragazzi perché sono degli esseri umani però sono delle persone sane, vere. Il dispiacere che ho visto da parte di ognuno dei ragazzi è tanto. Però io non sono uno che si fascia la testa. Nella mia carriera da calciatore e da allenatore ci sono stati momenti belli, brutti, brutti come questo perché poi in questo momento è un momento negativo. Ma da domani penso alla partita col Monza che poi ci sarà quella successiva con la spalla. Noi non ci dobbiamo, almeno io, quello che dico sempre ai ragazzi, non ci dobbiamo mai dimenticare da dove e come siamo partiti. Le difficoltà, i sacrifici che hanno fatto, sinceramente mi spiace molto molto per loro perché so la voglia che c'era da parte ognuno di loro di vincere oggi, di portare il Benevento in Serie A perché è un bene per tutti. Però purtroppo quando commette degli errori deve analizzare gli errori e cercare di non commetterli più. La cosa chiara e lampante è che nel momento, come questo campionato ha dimostrato, nel momento dello step della maturità non siamo stati bravi. Evidentemente questo ci manca. No, io sono convintissimo, altrimenti devo fare un altro mestiere. Perché se non è convinto l'allenatore, ai giocatori gli può chiedere niente. Perché se non vedono la convinzione dell'allenatore sono convintissimo che questa squadra può fare bene in queste due partite. Se non siamo bravi a centrare l'obiettivo che è la Serie A diretta, abbiamo la possibilità di conquistarlo attraverso i play-off. Io sono provato, sono dispiaciuto perché dopo una partita sono dispiaciuto. Una partita così è normale che sono dispiaciuto ma non mi faccio la testa io prima di romperla. Ci sono due partite, dobbiamo cercare di fare più punti possibili in queste due partite. Pensando già che sabato contro il Monza sarà un big match importante. Dobbiamo cercare di fare molto molto bene e poi alla fine tireremo le somme e vediamo dove siamo stati bravi e se siamo stati bravi e cosa abbiamo fatto soprattutto in questo campionato. Sei un allenatore navigato, hai fatto questo per tanti anni e sai che in questi momenti subentra più l'aspetto emotivo che l'aspetto tecnico, tattico. Evidentemente questo oggi ci è mancato. Io e noi ragazzi abbiamo cercato di correggere gli errori che abbiamo fatto nel primo tempo perché anche nel primo tempo abbiamo commesso degli errori dove potevamo subire gol. Poi come ho detto abbiamo avuto la fortuna, la bravura di fare gol. Noi nel secondo tempo dovevamo gestirla meglio, quello che ci è mancato. Soprattutto dopo aver subito l'1-1, la cosa che è venuto meno è la reazione nel senso che dovevamo stare in partita. Non dovevamo commettere l'errore che abbiamo commesso di fare, di accelerare, di fare una ripartenza, di cercare di andare subito e fare il secondo gol perché poi contro una Ternana che ha delle qualità importanti, con giocatori importanti, gli abbiamo concesso la possibilità di fare il 2-1. Nonostante ciò abbiamo avuto la palla del 2-2, l'abbiamo avuto la palla con Teio alla fine, nell'1-1 abbiamo avuto la palla con Farias. Nella partita sicuramente non giocata benissimo come abbiamo fatto altre partite, ma questo benissimo si ha mi aiutato a me, visto che quando iniziano a finire il campionato le partite belle se ne vedono ben poche perché la posta in palla è tantissima e alta, lì dovevamo gestirla meglio. Purtroppo questo è quello che ci è mancato anche questa sera e dispiace, dispiace perché poteva essere un fattore importante, dispiace perché abbiamo visto uno stadio pieno dove c'erano tanti bambini, tante persone che gli hanno dato una mano ai ragazzi. Il dispiacere che ho visto negli occhi dei ragazzi per non aver dato questa gioia ai propri tifosi, questo sicuramente fa male. Però lo sai meglio di me che da domani deve iniziare a pensare alla prossima, è inutile pensare a questa, tanto non possiamo tornare dietro, non possiamo piangere pensando a questa partita, dobbiamo cercare di analizzare gli errori insieme ai ragazzi e preparare bene la partita di Monzo. E questo, al di là della sconfitta, questo sicuramente è la cosa molto negativa. Forte starà fuori perché ha avuto un problema muscolare, Barba è squalificato, dobbiamo cercare, proprio in questo momento non ci voleva perché siamo soprattutto nel reparto anche difensivo, abbiamo come difensori centrali pochi giocatori, quindi dobbiamo cercare adesso di utilizzare i giocatori che sono a disposizione e cercare di preparare bene una partita che, come ho detto prima, sarebbe difficilissima contro una squadra forte che oggi ha perso e sicuramente cercherà di fare una grande gara. Però mancano due partite, due partite ci sono sei punti in palle, noi dobbiamo cercare di fare più punti possibili e non pensare a nient'altro, non pensare agli altri, che è la cosa per noi più importante. Ma è una squadra diversa, con giocatori diversi, una squadra che ha più qualità, noi dobbiamo cercare di limitare le qualità del Monza, che è una squadra forte, e cercare di fare la nostra partita come siamo abituati a fare. La cosa più importante adesso è lavorare sulla testa dei calciatori, perché non è facile in questo momento, il momento forse dall'inizio del campionato quello più delicato. però per ripartire bene dobbiamo dimenticare subito questa partita. Se ci portiamo dietro questa partita e pensare a tutto quello che potevamo fare oggi, commettiamo un grosso errore. Perché come ho detto prima, noi siamo partiti con un obiettivo, l'obiettivo di fare play-off non era un obiettivo scontato e facile. Siamo dentro i play-off, ma non dobbiamo pensare a play-off. Dobbiamo pensare che ci sono due partite, sei punti, e tutto può succedere in questo campionato. L'abbiamo visto, e anche oggi, i risultati delle altre squadre, all'inizio, prima della nostra partita, eravamo tutti felici. Adesso siamo tutti tristi, però nel calcio, mai dire mai, cerchiamo di fare bene in queste due partite, dopo si vedrà.